Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Realizzata dal Sibabruzzo in collaborazione con la cooperativa Balneari Servizi e Digitecnica, è stata presentata stamattina Pescara l'app Abruzzo Beach, un portale per conoscere eventi, tour, attività balneari, notizie utili per la viabilità nonché offerte last minute e promozioni turistiche. Il presidente del Sibabruzzo Riccardo Padovano ha sottolineato un nuovo modo di fare turismo e di promuovere gli stabilimenti balneari nell'entroterra. Ad oggi hanno già aderito all'iniziativa 40 stabilimenti di Pescara, Montesilvano e Francavilla al mare. Che cos'è questo prodotto? È un prodotto innovativo che promuove la costa non su Pescara, Montesilvano e Francavilla ma la va a promuovere fuori regione, nella regione e fuori regione. Vogliamo consentire ai bagnanti che vogliono venire a visitare i nostri lidi che abbiamo tutti i servizi all'eccellenza, il prodotto è garantito di qualità e la novità di quest'anno è questa, che sotto la palma, ben seduto, molto probabilmente faremo la vignetta, con il telefonino in mano posso organizzarmi il mio caffè, la mia pizzetta. Che cosa facciamo? Portiamo la bibita a domicilio sotto la palma, sotto l'ombrellone. E questa è la grande novità. Inoltre, chi viene da Castel di Sangro, da Roma a Est, dove puntiamo molto a quel tipo di bagnante, che da Roma a venire a Pescara impiega un'ora e quaranta, che si è preme a Bruzzo Beach, trova tutte le informazioni possibili di attività culturale, di intrattenimento e di tutto quello che si fa nel nostro lungomare. Trova anche l'indicazione perché trova, che se trova un lungomare chiuso, perché c'è una manifestazione sportiva e gli sappiamo indicare anche il posto dove parcheggiare. Se si coopera, si promuove. La cooperazione è stata l'arma vincente, di cui i romagnoli oggi fanno 54 milioni di presenze. In Abruzzo ne facciamo 4 milioni. L'individualismo abruzzese deve seguire un po' l'esempio dei balneari della balnearia. Noi compiamo 30 anni di attività di cooperativa a dicembre 2019 e abbiamo fatto sempre l'aspetto organizzativo del sindacato italiano balneari ConfCommerce.